Anche le rate del mutuo non sfuggono ai controlli dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha ricordato una recente ordinanza della Cassazione, secondo cui è ben possibile l'accertamento fiscale nei confronti di chi versa mensilmente all'istituto di credito un importo sproporzionato rispetto al proprio stipendio. Come mai ed in che modo avvengono i controlli fiscali sulla rata del mutuo? Ve lo spiegherò in questo breve ma semplice video. Lo farò basandomi su un esempio pratico che poi non è distante dalla situazione in cui versano diversi contribuenti. Siete pronti per questo interessante viaggio nel mondo del fisco italiano così contorto, ma da un lato neanche poi così stupido come si crede? Questa è la legge! Prima di tutto dobbiamo fare delle premesse per spiegare come funzionano in generale i controlli fiscali, cosiddetti sintetici. Il fisco controlla quanto spendete, non gli interessa tanto cosa comprate, ma quanto pagate. Perché se le vostre uscite sono superiori alle entrate dichiarate, allora è perché avete delle disponibilità in nero e quindi siete evasori. Così per evitare che voi possiate accumulare soldi in nero sotto il materasso per comprarci ciò che volete, l'agenzia delle entrate ha inventato un software che si chiama redditometro. Il funzionamento di questo algoritmo è molto semplice. Da un lato prende in considerazione il reddito riportato sul 7,30 del contribuente e dall'altro lato pesa le spese annuali da lui fatte nel medesimo periodo di imposta. Se queste spese superano il 20% del reddito dichiarato, salta fuori l'anomalia e il cittadino viene convocato dinanzi all'ufficio delle imposte. L'incontro serve per consentire al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti circa la provenienza del denaro che ha determinato un tenore di vita più elevato. Il redditometro considera non solo gli acquisti in senso stretto, come un'auto, una casa, un viaggio, ma anche gli oneri per la loro conservazione, come ad esempio le spese condominali, il bollo auto, l'assicurazione, le utenze e così via. Nel momento in cui il contribuente fornisce le giustificazioni circa la propria posizione, deve avvalersi di prove convincenti. La prima cosa che viene presa in considerazione è il tenore di vita di tutti i conviventi inseriti nel medesimo nucleo familiare. È normale, ad esempio, che un ragazzo, benché disoccupato, possa comprarsi un motorino o un'auto grazie agli aiuti dei genitori e lo stesso dicasi degli scambi di denaro tra coniugi che consentono anche a chi è economicamente più debole di poter spendere di più di quanto guadagna. Se però, tenuto conto del reddito complessivo della famiglia anagrafica, la sproporzione tra le uscite e le entrate dovesse continuare a sussistere, il contribuente dovrà essere pronto a fornire prove scritte circa la provenienza del denaro in più che è stato speso. E quali possono essere queste prove? Ad esempio, la vendita di beni usati come un'auto di seconda mano, un quadro o altri oggetti di valore detenuti in casa per la cessione dei quali non c'è alcun obbligo dichiarativo nei confronti del fisco. Si può poi dimostrare di aver ricevuto dei soldi in regalo, ossia delle donazioni, ma queste dovranno essere tracciabili e quindi bisognerà fornire la dimostrazione del bonifico dell'assegno ricevuto. Si può poi documentare il ricevimento di proventi ricevuti con una tassazione già eseguita alla fonte e pertanto da non riportare nella dichiarazione dei redditi. Un tipico esempio sono le vincite alle scommesse o le lotterie a premi. Si può poi sostenere, sempre in sede di difesa preventiva davanti all'ufficio delle imposte, di aver richiesto un prestito in banca. Con un mutuo è normale permettersi l'acquisto di un bene di valore più elevato rispetto alle proprie attuali possibilità, salvo poi l'obbligo di restituire l'importo a rate. Ma qui la trappola è nascosta dietro l'angolo ed è di questo che parla la sentenza di cui vi voglio raccontare. Facciamo un esempio pratico per rendere la questione ancora più facile da comprendere. Antonio ha uno stipendio di 900 euro mensili e 100.000 euro in nero custoditi in una cassaforte di casa. Vorrebbe comprarci un magazzino per darlo in affitto, ma sa che così facendo scatterebbe il redditometro e il fisco si accorgerebbe del nero. Così decide di chiedere un mutuo in banca per 80.000 euro da restituire in 10 anni. Al netto di spese di interesse, la rata mensile supera 700 euro. A questo punto però l'agenzia delle entrate si accorge della discrasia. Come fa il povero Antonio, si chiede il funzionario del fisco, a pagare 700 euro al mese alla banca se ne guadagna appena 900? Può, con solo 200 euro, mandare avanti il resto della famiglia a pagare le utenze, le tasse e la spesa quotidiana? La cosa gli puzza! E quindi avvia un procedimento per accertare la sussistenza di eventuali redditi non dichiarati. L'esempio che vi ho appena fatto è un tipico caso di controllo fiscale sulla rata del mutuo troppo alta rispetto al reddito dichiarato dal contribuente. Ed è proprio così che spesso i contribuenti finiscono nelle reti dell'agenzia delle entrate. La Cassazione ha quindi spiegato che l'acquisto immobiliare e la relativa spesa sostenuta ogni mese con la rata del mutuo sono sufficienti per legittimare l'accertamento da parte del fisco. Bene amici, ora che lo sapete, mi raccomando, rate del mutuo proporzionate al vostro reddito dichiarato. E sapete perché? Perché questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge! Grazie!